ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore grazie prima di iniziare vi voglio presentare la collezione di maggio e della marca madame la collezione contiene otto bellissimi colori copro l'unghia con colore e lo polimerizo in lampada dopo quale tolgo la distanza espressione uso il bianco per disegnare e non lo polimerizo in lampada sopra spolvero la polvera acrilica trasparente e dopo lo polimerizo in lampada aggiungo i tre colori e uso un pennello degradè per sfumarli uso il paint nero senza dispersione per disegnare il print leopardato grazie oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Copro l'unghia con colore e sopra spolvero la polvere acrilica trasparente. Bagno il pennello degradé in base gel per facilitarmi il lavoro. Musica 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 Su qualche chiazza leopardata dublico sopra l'effetto e non lo polimerisco in lampada. Musica Sopra spolvero un glitter nero molto molto fine. Musica Copro solo una parte dell'unghia con colore e con un pennello degradé imbevuto in base gel lo sfumo. Musica 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 Tolgo la dispersione del colore. Musica 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 Riempio tutto con bianco e non lo polimerisco in lampada. Musica 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 Sopra spolvero la polvere acrilica trasparente dopo quale lo polimerisco in lampada. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Copro qualche linea con 3D gel trasparente. Grazie a tutti.